Una vera e propria banda munita di armi anche da guerra specializzata nell'assalto a portavalori è stata fermata dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. Per sette uomini è scattata infatti un'ordinanza di custodia cautelare da scontare in carcere. Gli accusati dovranno infatti rispondere a vario titolo di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione oltre che detenzione e porto di armi da fuoco, di cui alcune anche da guerra. L'ordinanza è arrivata dopo anni di indagini iniziate dopo uno dei colpi della banda che avvenne nello specifico lo scorso 3 dicembre del 2021 quando ad Ascoli Satriano, sulla strada statale 655, i malviventi assalirono un furgone portavalori armati di pistole e fucili da guerra utilizzando autovetture di grossa cilindrata per speronare il portavalori e darsi successivamente alla fuga eludendo i tentativi di fermarli anche tramite l'utilizzo di bande chiodate da parte delle forze armate. Grazie agli elementi raccolti dopo quell'episodio, i carabinieri verificarono che gli stessi autori della rapina si resero protagonisti un anno dopo, il 21 gennaio 2022, di un'altra tentata rapina sempre sullo stesso tratto stradale. In quell'occasione però la banda di malviventi ebbe la peggio grazie all'attivazione dei sistemi di sicurezza in dotazione al mezzo blindato. Ma non solo, le indagini hanno ricollegato quattro membri della banda anche ad altre tre rapine commesse tra le province di Foggia e della BAT sempre a danni di autotrasportatori. Questi, con l'aiuto di altri complici non ancora identificati in quanto coperti da passamontagna avrebbero fermato lungo la strada gli autisti di portavalori costringendogli a consegnare il veicolo puntando contro di loro le armi da fuoco dopodiché le vittime venivano abbandonate in un luogo isolato e lasciate lì, prive dei loro mezzi.